la toscana ha un tracciamento dei positivi pari al 98 per cento un rt pari all'1,2 per cento uno dei più bassi d'italia una costante diminuzione dei contagiati delle terapie intensive e un aumento dei 40 insomma ieri ci sono rimasto male quando il ministro speranza non ci ha promosso nella zona arancione in questi casi bisognerebbe prendere ad esempio dal calcio utilizzare il va il ministro speranza va al monito leggi dati della regione toscana riappare in video annullata la penalizzazione sempre dal calcio io per esempio introdurrei l'uso dell'antidoping qualche governatore di regione io per esempio lo porterà in bagno ma perché ora siamo qui mi fai vedere il numero effettivo dei tamponi se scopro l'inflazione il governatore viene squalificato due anni e la regione mi retrocede al colore nero venerdì prossimo ci sarà un altro turno di verifica allora se in quel caso la toscana non verrà promossa io lo dico fin da ora fin da ora vuol dire che il campionato dei colori è già stato stabilito chi lo vincerà la juventus voglio solo però ricordare una cosa state attenti perché monci abita in toscana